... Benny, vai a cucinare, rivolta la tuta, ma trovami quella merda di roba! Ma lei blanca, guarda cos'è? Hai ammazzato il ragazzino di quattro anni! Era necessario! La prego, apra la porta! La prego! La prego! La prego! Qui ci sono tre ragazzini Credo che Sten abbia ucciso la ragazza E Willy quella testa di cazzo ha sparato al bambino Manca la terza, trovala Oh cazzo Ci siamo fatti scappare alla ragazzina Vado a cercare il portiere di questo maledetto palazzo Non mi riconosci? Non so che sei Non so che sei